5, 4, 3, 2, 1, vai, piega destra, 50, piega destra, in sinistra 4 o più, in ritardo a destra 5, chiude 4, in sinistra 5 vai, 30, in sinistra 5, in destra 5, in attenzione sinistra 3 sporca, in destra 3, in sinistra 3 fa 50, è il bivio, sinistra 1 vai 30, piega sinistra, 50, piega destra, 100 sale, ritardo a destra 4, chiude 2 e più, e vai 100, alpino piega sinistra e vai 100 destri, alpino piega sinistra e vai 100 destri, e alla pietra sinistra 2 e più, e vai 100 sinistri e scende, 100 sinistri scende, e alle gomme ritardo a destra 3 e più, occhio interno, e vai 50, e piega sinistra, e vai 100, e al cancello sinistra 1 sporca, al cancello sinistra 1 sporca, piega destra 30, sinistra 3 scende, per sinistra 3 lunga, chiude chiude, in piega destra e va 40, 40, destra 3 chiude 2 meno meno, 50, piega sinistra, all'albero chiude 2 brutta, e vai 70, e piega sinistra e destra, e vai 50, 50, poi diventa sale, e addosso, piega sinistra, occhio 50, e qua era con pressione, scusa, 50 scende, sinistra 3 più, 20, sinistra 3 meno scende, e piega destra lunga, 50, piega destra, chiude 3 più, occhio punta sporca, e vai 100, e sinistra 5, e vai 100, sinistra, sinistra 1, ritardo a sinistra 1, vai 150, sinistra 4 tiene, per inversione destra, bravo, vai 300, occhio, vai mi raccomando qua, destra 6 lunga, e vai 100, destra 6 lunga, vai 100, ritardo a destra 1, per sinistra 1, in destra 1, 10, piega destra, in piega sinistra, e vai 50, ritardo a sinistra 5 lunga, chiude il cartello, in sinistra 4, in destra 5, in ritardo a fila sinistra 3 meno, e vai 40, ritardo a poco, destra 2 e più, e vai 50, ritardo a sinistra 5 e più, chiude, ritardo a sinistra 5 e più, chiude, e vai 50, piega destra, in ritardo a fila sinistra 5, piega destra, in ritardo a fila sinistra 5, e vai 100, ritardo al moretto, destra 4, chiude a poco al ponte credici, in sinistra 5, 70, e ritardo a sinistra 4, chiude i tieni, in ritardo a destra 2 al ponte, in anticipa poco a sinistra 3, più lunga, apre 5, tieni, e ritardo a destra 2, ritardo a destra 2, in sinistra 4, in ritardo a destra 2 lunga lunga, e vai 40, ritardo a sinistra 3 e più, chiude, ritardo a sinistra 3 e più, chiude, e vai 50, sinistra 2 e più, chiude, e vai 50, in ritardo a sinistra 4, più, in destra 5, in sinistra 5 va 20, e fai molta attenzione in ritardo a fila sinistra 3 e più, e vai 50, e piega a sinistra e vai 100, e ritardo a destra 4, più, chiude, e vai 50, risardo a sinistra 3 e più, e vai 50, Sììììììì Bravo Dani Che ho fatto Maffanculo Grazie a tutti.